Tumore alla mammella, prevenzione anche alicata, inaugurato il mammografo. Tornano le bancarelle fiera di Sant'Angelo ad agosto. Animazione e spettacoli, weekend di festa alla marina. È il 29 luglio del 2024, è il lunedì, mi auguro che viate trascorso un buon fine settimana e ricominciamo con l'informazione di Quilicata TG. Apriamo con una bella notizia, sì perché finalmente oggi è stato inaugurato nelle parti di radiologia del San Giacomo d'Alto Passo dedicata dal direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci un mammografo di ultima generazione. Di fatto sarà possibile per le donne di età compresa all'inizio tra 50 e 69 anni eseguire direttamente all'icata senza spostarsi altrove le mammografie con uno strumento veramente di ultima generazione. Vediamo com'è andata. Allora questo era un buco organizzativo che avevamo, anzi geografico, cioè mancava il mammografo all'icata quindi abbiamo forse fra le prime tecnologie sulle quali stiamo investendo abbiamo dotato la radiologia dell'ospedale di Licata di questa tecnologia che è fondamentale per la prevenzione, fondamentale per riuscire a scovare scusatemi il termine che può sembrare anche un po' poco tecnico a scovare quei tumori della mammella che si nascondono nella popolazione. Voi considerate che l'anno scorso abbiamo trovato 320 cancri della mammella nella popolazione della provincia di Agrigento e di questi solo una piccola parte si è rivolta ai nostri centri quindi l'obiettivo è quello di riuscire a salvare sempre più vite umane e nello stesso tempo fornire un'assistenza dalla diagnosi alla terapia in maniera completa per tutta la popolazione e indipendentemente dall'area geografica della provincia. Avete visto l'intervista con Giuseppe Capodieci, direttore generale dell'ASP di Agrigento ma abbiamo intervistato tutti i protagonisti dell'iniziativa di oggi in coda alta da giornale nella nostra rubrica in salute vedrete tutte le interviste e le immagini dell'inaugurazione del mammografo. La cronaca, una donna di 74 anni è deceduta per un malore mentre si trovava in spiaggia sabato pomeriggio a Torre di Gaffe nel tratto di arenine compreso tra Licata e Palma di Montechiaro. Scattato l'allarme i soccorsi sono scattati immediatamente sul posto è intervenuto anche l'equip di un elicottero del 118 decollato da Caltanissetta purtroppo però per l'anziana non c'è stato nulla da fare è deceduta sull'arenine. Cambiamo argomento la strada comunale Sant'Antonino scusate ieri ha riaperto al traffico era chiusa, lo ricorderete, dal settembre scorso a causa del crollo sulla carreggiata di un grosso masso dal costone roccioso che si trova proprio sopra alla strada ora il costone è stato messo in sicurezza e la strada ha riaperto sono necessari però dei lavori di manutenzione vediamo Sono stati necessari dieci mesi ma finalmente ieri la strada comunale Sant'Antonino che collega il centro storico con la zona collinare della città e rappresenta una sorta di variante importante per il traffico anche se di dimensioni ridotte ha riaperto la strada è tornata ad essere percorribile però bisogna fare degli interventi anche in tempi brevi per esempio il parcheggio accanto al cimitero dei Cappuccini è pieno di erbacce e sterpaglie e va ripulito per renderlo fruibile erbacce e sterpaglie anche in buona parte della strada che limitano la carreggiata già ristretta e poi all'inizio dell'arteria ci sono ancora i blocchi in cemento armato che impedivano alle auto di transitare perché era pericoloso per gli automobilisti dunque bene la riapertura della strada soprattutto nella stagione estiva però bisogna rimetterla a posto completamente era di origini licatese il pasticcere Vincenzo Bonfissuto di Canicattì deceduto purtroppo a soli 43 anni venerdì sera a Bologna per arresto cardiaco mentre si trovava nel centro delle media per lavoro il pasticcere insieme al fratello era diventato famoso soprattutto per un panettone che è stato assaggiato ed apprezzato anche da Papa Francesco la famiglia di Vincenzo Bonfissuto è originaria di Licata cambiamo argomento una caretta caretta 60 giorni fa aveva deposto le proprie uova in un lido di Real Monte e ieri c'è stata la schiusa che è stata documentata da Maria Amico Agrigento che l'ha ripresa integralmente e le immagini che vi stiamo mostrando sono state fornite proprio da Maria Amico esattamente dopo 60 giorni le uova si sono schiuse e alcune decine di tartarughini hanno raggiunto il mare a custodire il nido in tutto questo tempo sono stati Maria Amico e il WWF lungo weekend di eventi a Licata venerdì scorso i tamburi sotto le stelle in piazza Progresso sabato e domenica la marina animata dalla manifestazione insieme ecco una clip che racconta i tre giorni grazie a tutti grazie a tutti Sbagliato, sbagliato, sbagliato Non vorrei tornare, zocco, venire a re, non può venire Sta terra ha visto cose antiche e rari Quante secole fa, si può capire La crisi idrica è una ferita nel cuore della nostra comunità A scriverlo in una nota è il Consiglio pastorale diocesano dell'Arcidiocesi di Agrigento Che fa il punto della situazione e di fatto rilancia l'allarme Da parte di tantissime famiglie che sono rimaste senza acqua E ogni giorno vivono grandi disagi Gli stessi disagi che vengono vissuti in questo periodo dell'anno Dagli agricoltori anche loro rimasti praticamente Senza la possibilità di irrigare i campi Si chiama Life, la prima autobiografia di Papa Francesco Di cui è coautore il giornalista agrigentino Fabio Marchese Ragona Vaticanista di Mediaset Lo ha intervistato Anna Rita Di Leo La prima volta che Papa Francesco racconta la sua vita in un libro È il titolo appunto Life, vita È il titolo in inglese perché il libro è uscito in contemporanea in 21 paesi del mondo Il Papa apre il suo cuore a tutti È il sottotitolo La mia storia nella storia Il Papa racconta la sua storia raccontando anche però i grandi eventi della storia degli ultimi 80 anni Soprattutto i non credenti si ritrovano molto nelle parole di Papa Francesco Colpisce la genuinità con cui racconta la sua vita Ma anche il fatto che apre davvero il suo cuore raccontando anche dei momenti intimi della sua vita personale Dei litigi in famiglia, i racconti di quando era bambino, della sua nonna Ma anche tutto quello che ha vissuto sulla sua pelle Quando fu mandato in esilio per punizione all'inizio degli anni 90 A 700 chilometri da Buenos Aires Quindi racconta ombre e luci della sua vita E poi anche ovviamente il momento in cui è diventato Papa Raccontando il dietro le quinte del conclave Qual è il messaggio che lancia il Papa attraverso questo libro? Lancia tanti messaggi Si rivolge direttamente al lettore E lancia dei messaggi forzi su vari temi come il cambiamento climatico Il dialogo interreligioso E poi ovviamente anche c'è il tema della pedofilia nella Chiesa Gli abusi, lo scandalo degli abusi Su cui c'è ancora tanto da fare E poi sicuramente il tema della pace E adesso vi lascio a In Salute La nostra rubrica dedicata, come dice lo stesso titolo, alla salute Che oggi racconta l'inaugurazione del nuovo mammografo di ultima generazione Al San Giacomo d'Alto Passo Ci fermiamo qui, non perdetevi in salute E poi ci rivediamo mercoledì A presto Oggi è proprio una giornata che abbiamo voluto dedicare alla prevenzione Proprio quella, l'invito alle donne Che della fascia di età dai 50 ai 69 anni Di rivolgersi liberamente ai centri di screening Non solo di Licata Ma di tutta la provincia di Agrigento E riceveranno la maggior parte di loro una lettera E l'obiettivo è quello di rispondere e di presentarsi Perché tante volte impegnare una mattinata Ci può aiutare a salvare la propria vita Finalmente è arrivato un mammografo a Licata Un mammografo che è destinato momentaneamente Ed esclusivamente alle attività dello screening del tumore della mammella Ed è un progetto ideato e pensato già tanto tempo fa Dal nostro direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche Il dottore Trigona E che oggi, devo dire, grazie alla spinta propositiva e decisiva Della direzione strategica del direttore generale è diventato realtà Avere un mammografo a Licata vuol dire fondamentalmente due cose La prima è quella di incrementare il numero di prestazioni Messe a disposizione per la popolazione e per lo screening mammografico E la seconda è quella che ci auguriamo nell'obiettivo principale Fondamentalmente avere un mammografo nella propria città Per le donne licatesi significa non doversi più regare Al poliambulatorio di Palme Montechiaro per effettuare l'esame Ma avere un mammografo vicino a casa, sotto casa Quindi si spera possa incrementare l'adesione delle pazienti Verso i percorsi di screening Diamo le indicazioni Oggi c'è l'open day Quindi le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni Possono fare la mammografia Poi come funziona? Come bisogna prenotarsi e come si fa? Sì, per oggi è prevista una giornata di open day Quindi tutte le donne dai 50 ai 69 anni possono recarsi il cui reparto E fare liberamente, gratuitamente, senza prenotazione, l'esame mammografico Successivamente verranno inviati degli inviti alla popolazione Ma anche spontaneamente le donne potranno aderire al percorso di screening Mi permetto di fare un ringraziamento personale A tutti coloro i quali hanno permesso oggi l'installazione di questo mammografo Anche in pochissimo tempo Quindi un grazie ai miei collaboratori Un grazie all'ufficio tecnico Alla ditta installatrice Alla fisica sanitaria Anche alla ditta di maturazione Larry Kip E a tutti coloro comunque i quali hanno permesso di lavorare Non solo per noi ma soprattutto per le donne di questo territorio Inizialmente l'oncologia nasce nel territorio a Licata E io nel lontano 1989 vengo ad aprire l'ambulatorio oncologico Conta moltissimo Considerate che noi nella provincia di Agrigento Abbiamo circa 270-309 casi all'anno di tumore della mammella Questo che viene installato oggi nell'ospedale di Licata Nella radiologia dell'ospedale di Licata È un mammografo di ultima generazione Un apparecchio digitale che consentirà inizialmente per le donne dello screening Ma successivamente potrà probabilmente essere utilizzato anche per donne Che hanno necessità di fare una diagnosi anche in età più precoci Da 40 anni in poi E potrà essere utilizzato anche eventualmente per le biopsie mammarie Al fine di diagnosticare il prima possibile il tumore della mammella Diagnosi precoce di tumore della mammella significa inserire la paziente nel percorso Breast Unit Ricordiamo che questo mammografo nasce sulla base di un progetto di cui sono referente Che è stato finanziato con fondi di piano sanitario nazionale E che è stato acquistato grazie a questi fondi per la Breast Unit La Breast Unit è una Breast Unit aziendale Quindi ovviamente deve servire tutte le donne della nostra provincia E assicurare pari opportunità di cure e percorsi di eccellenza A tutte le donne della nostra provincia che si ammalano di tumore Questo mammografo consentirà non solo di diagnosticare il cancro Nelle fasi inizialissime dello sviluppo Ma addirittura di diagnosticare il cancro Prima ancora che questo si verifichi Voglio dire di diagnosticare quelli che sono i fattori di rischio per cancro della mammella Noi grazie a questo mammografo potremo vedere le cosiddette microcalcificazioni E grazie ai nostri radiologi della Breast Unit potremmo fare quelle che sono le biopsie stereotassiche Su guida mammografica che servono a diagnosticare quello che si chiama carcinoma in situ Stiamo cercando in tutti i modi di rendere sempre più capillare il servizio in tutta la provincia Evitando spostamenti alla popolazione Per incrementare questa prevenzione Quindi potenziare il servizio di screening mammografico Che da anni è radicato in questo territorio E che sta dando ottimi risultati in termini di diagnosi precoci Un ringraziamento va alla direzione generale dell'Aspedia Grigento Che ha lavorato in questa direzione Ricordiamo che è un'iniziativa portata avanti dal dottore Angelo Trigona Che è attualmente vice sindaco e assessore alla sanità E quindi il lavoro preventivato, organizzato e strutturato nel tempo Oggi dà questo risultato È un servizio utilissimo e indispensabile per le nostre donne Per quanti si rivolgeranno alla struttura ospedaliera Perché questa è una strumentazione ultima generazione Quindi significa che non occorrerà fare chilometri per spostarsi Per avere una mammografia adeguata ai tempi Ovviamente tutto parte però da una diagnosi Quindi questo strumento è fondamentale per intercettare in tempo Una malattia che può essere perfettamente curabile al giorno d'oggi Soprattutto attraverso la prevenzione e quindi lo screening Il mammografo è fondamentale È il primo passo verso la cura del tumore della mammella Noi interveniamo ovviamente dopo la diagnosi Ci occupiamo di tutto il percorso terapeutico Che passa attraverso la chirurgia Perché non c'è tumore della mammella Che possa guarire senza il tempo chirurgico Ma questo tempo può essere assolutamente non invasivo Tanto più quanto più precoce la diagnosi Gli screening oncologici sono tre innanzitutto E sono offerti gratuitamente dall'aspide agrigento E sono lo screening del colorretto Che è rivolto a donne e uomini Di età compresa 50-69 anni Residenti nella provincia di Agrigento Lo screening del cervico carcinoma È rivolto alle donne di età compresa 25-64 anni E lo screening della mammella È rivolto alle donne di età compresa 50-69 anni Come funziona? Il centro gestionale screening dell'aspide invia la lettera a domicilio Degli utenti di questa fascia target Quella che ho detto poc'anzi Con l'invito appunto a rispondere di sì Per quanto riguarda lo screening della mammella Nella lettera d'invito c'è la data e orario prefissati Per eseguire la mammografia Ma ci sono anche i nostri numeri telefonici Eventualmente per modificare l'appuntamento Per quanto riguarda lo screening del colorretto La lettera d'invito contiene appunto L'invito a recarsi in farmacia Per ritirare il kit Per la ricerca del sangue occulto nelle feci Per quanto riguarda lo screening del cervico carcinoma La lettera d'invito contiene invece L'invito appunto a contattare i consultori Per concordare con loro l'appuntamento Per effettuare o il papi test o l'HPV DNA test Naturalmente invitiamo tutta la popolazione target Che riceve questa lettera d'invito a rispondere di sì All'invito dell'ASP per effettuare il test L'offerta per quanto riguarda lo screening mammografico In provincia dell'Agrigento della nostra ASP Si arricchisce di questo importantissimo macchinario Che sarà utilizzato al momento esclusivamente Quindi per le mammografie di primo livello Per la popolazione ligatese Questo ci permetterà di fare diagnosi sempre più precoci Di cancro della mammella Ed è la prima tappa di un percorso ci tengo a dire assolutamente completo Sicuro, gratuito e vantaggioso per la donna Non solo nella mammografia di primo livello Ma anche in tutti gli eventuali step successivi di approfondimento Che porterà la paziente a una diagnosi sempre più precoce E sempre più sicura del cancro della mammella Grazie a tutti Grazie a tutti